Grazie Presidente. Nel dibattito che c'è stato sono già state dette tante cose. Volevo sottolineare l'intervento del Movimento 5 Stelle su anche un altro aspetto importante che purtroppo è toccato da questa materia, che è quello della criminalità organizzata. Infatti tra gli interessi della criminalità organizzata il gioco d'azzardo resiste nell'elenco dei settori di punta. Non a caso l'annuale relazione della Commissione parlamentare antimafia lo afferma quale nuova frontiera per il riciclaggio del denaro sporco, ricordando che l'Italia è tra i primi cinque Paesi al mondo per volume di gioco con un fatturato pari al 3% della ricchezza nazionale e sono dati del gioco legale destinati ad impennarsi se si guarda anche al gioco clandestino. Anni fa, perché purtroppo è di anni fa la notizia, destò scalpore la notizia che Pavia ne era la capitale per numero di macchinette e spesa pro capite. Una nuova slot ogni 55 residenti, più del triplo della media nazionale. Una spesa media di 1.364 euro per ogni abitante sopra i 15 anni. Eravamo nell'anno 2007. Oggi la situazione è peggiorata. Ormai a Pavia e provincia, come in molte altre realtà lombarde, si conta una macchinetta mangiasoldi ogni 33 persone e nei 12 mesi si spendono mediamente 2.900 euro, ovvero oltre mezzo miliardo in euro, cifra in progressiva crescita, quando la già elevata media nazionale è intorno ai 1.200 euro. Si tratta di giocatori incalliti o di città come Pavia come base elettiva del riciclaggio? Comunque la dipendenza dal gioco traspare ciò che è, una patologia come le tossicodipendenze, una servitù psicologica dagli elevati costi sociali, su cui lucrano un po' tutti, dalle mafie allo Stato. Bingo, poker, lotterie, slot, dalle istituzioni locali e nazionali arrivano segnali ambigui quando non contrastanti. Il bacino d'utenza è in preoccupante espansione, già che il numero delle puntate aumenta al ritmo del 13% l'anno e si abbassa l'età media. Nonostante il divieto ha giocato almeno una volta il 43% dei minori scolarizzati tra i 15 e i 19 anni. E le mafie? Dopo la disordinata legalizzazione del gioco d'azzardo con slot machine, le nuove slot rappresentano ormai più della metà in volume d'affari. Secondo una stima della Guardia di Finanza, in Italia nel 2006 si contavano fra 100 e 200 mila new slot abusive, circa la metà del numero totale, ossia non connesse al sistema informatico di controllo gestito dalla società generale informatica Sogei. I dati ufficiali dell'amministrazione autonoma Monopoli indicavano in 15 miliardi e 400 milioni il fatturato legale del settore e quello illegale all'epoca ammontava oltre 43 miliardi. Sono pochi i controlli? È scarsa la tracciabilità? Sogei fa capo al Ministero delle Finanze ed era tenuta a vigilare sul corretto uso di slot e videopoker. Non lo ha fatto, giacché dal 2004 al 2007 gli apparecchi collegati in rete erano ancora pochi e più della metà non ha mai trasmesso dati. Secondo i magistrati contabili della Corte dei Conti, la defezione ha permesso una rilevante evasione fiscale e ha impedito l'individuazione di eventuali raggiri delle norme antiriciclaggio. E ora, stando a una relazione del Ministero dell'Interno, le scommesse clandestine e le sale bingo sempre più rappresentano settori di interesse per la criminalità organizzata, sia per quanto riguarda le infiltrazioni nelle società di gestione delle sale giochi, sia per quanto riguarda le società concessionarie della gestione della rete telematica, dove si è assistito a un duplice fenomeno. Da un lato la giudicazione a prezzi non economici di talune concessioni e dall'altro al proliferare di punti scommessa, i cosiddetti corner, alcuni dei quali chiaramente inseriti in una rete territoriale dominata dalla presenza di un circuito criminale. Dunque, come si rileva nell'annuale relazione a cura della Direzione Nazionale Antimafia, per i notevoli introiti che assicura, a fronte di rischi giudiziari relativamente contenuti, il gioco è ormai diventato la nuova frontiera della criminalità organizzata di stampo mafioso, seconda solo al narcotraffico, la prima nel riciclaggio. Chiediamo dunque che questo sia solo un primo passo. L'attenzione di Regione Lombardia deve restare alta e forte, con particolare riguardo ai monitoraggi e alle azioni concrete e ad iniziative che devono essere attuate di concerto con le autorità competenti, relativamente in particolar modo alle attività illecite di riciclaggio.